Castro dentro per Etemai, Perin e non c'è riva, Etemai pareggia il Chievo, Genova 1, Chievo 1, la rete di Etemai Gran palla di Castro in verticale a innescare Etemai a premiare il suo eserimento e davanti a Perin è freddo e preciso e trova il gol dell'1-1 Alla minuto numero 73 Primo gol in questo campionato anche per Etemai con Perin che non ci arriva sul pallone Ci arriva invece bene con il destro Etemai che anticipa l'uscita di Perin e trova il gol dell'1-1